Siamo dato Gesù Cristo. La parabola del povero Lanzaro e del ricche Pulone, così come la conosciamo, è un insegnamento di Gesù che va nella profondità di quelli che sono i destini possibili per l'eternità delle anime, quindi i nostri. E tutto questo è condizionato da ciò che facciamo, come viviamo qui sulla Terra. C'è una compensazione, una ricompensa, una punizione, quindi ogni nostra azione è un atto morale, cioè può essere buono o cattivo ed ha una retribuzione, una conseguenza. Quello di cui non teniamo conto e facciamo fatica, questa fa parte della rivelazione, è che questo è per sempre. Il per sempre non è una durata infinita nel tempo, ma è l'eternità, è un'immersione nell'attimo presente di ciò che è la condizione spirituale, perché lo spirito è questo. Nel tempo, cioè nei giorni che noi abbiamo qui sulla Terra, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la voce di Dio, perché Lui si rivela a noi e ci dice queste cose, che le nostre azioni comportano una responsabilità morale, hanno un valore per il bene e per il male della nostra esistenza nell'eternità, nello spirito, perché il bene e il male si pone prima dell'azione materiale con una volontà buona o cattiva o con la omissione di un bene che si sarebbe potuto fare. Così il povero Lanzaro ha un nome ed è amato da Dio e mentre nel mondo è disprezzato, nessuno tiene in conto di lui, i cani vanno a legare le sue ferite, il ricco neanche si accorge di lui e non gli importa di nulla, si confonde nei suoi stracci, forse questo povero, con il colore della Terra, dei rifiuti. Mentre invece per Dio è prezioso, prezioso per la sopportazione con cui senza lamentarsi e senza diventare cattivo o senza avere pretese di qualche sorta sul ricco e su quelli che mangiano con Lui, sopporta confidando nel Signore ed è così che alla fine del suo viaggio terreno, certamente triste, in realtà inizia la gloria. Viene portato in cielo dagli angeli e quindi è festa in cielo e viene accolto nel seno di Abramo, che vuol dire il padre della fede, la radice della nostra fede e colui che, in mezzo della sua discendenza che è Gesù, ci procura la porta del cielo, questa porta si apre per noi, per questo Cristo che è venuto, discendente di Abramo e di Davide. Per l'altro non c'è né nome, né speranza, né ricordo. E nell'immagine, nella parabola c'è una finestra che si apre di comunicazione che tra Lui e Abramo, una comunicazione che però non rende possibile se non la certezza di ciò che è questo ricco si è giocato per l'eternità. Il suo egoismo, il suo non vedere, il suo avere potere su tutto per mezzo del denaro e non avendo minimamente volato al bene di qualcun altro, questo egoismo lo condanna a rimanere nello stato perpetuo di isolamento, lui che poteva probabilmente viaggiare, muoversi, fare, agire, decidere, incatenato in una sorta di tormento per l'eternità, senza il bene degli affetti, perché affetti non ne aveva solamente la tavola e il proprio ventre, e senza la possibilità di comunicare con nessuno. Eppure in questa parabola c'è uno squarcio, come si disse, di dialogo che per quanto neghi un passaggio da una zona all'altra, da un luogo all'altro, mostra che da parte di Dio non c'è né rabbia né vendetta né... c'è tristezza. Se parla per mezzo di Abramo, il padre mostra che c'è compassione per questa povera anima, ma non c'è più nulla da fare. Non c'è più nulla da fare perché i giochi si compiono nel tempo che è dato proprio per le possibilità, la scelta, il bene e il male, di correggersi, emendarsi, convertirsi. Abbiamo tante occasioni di fare il bene, ma giocato per l'eternità. Non c'è malevolenza da parte di Dio, perché in Dio c'è solamente amore, ma non c'è possibilità per quest'anima di progresso, di raggiungere i suoi sulla terra e tantomeno in cielo, perché ha segnato definitivamente con il proprio egoismo, la propria chiusura, il proprio buio spirituale, quella che è la condizione della sua anima. Ogni giorno passato sulla terra lo ha dedicato a costruire la situazione nell'inferno, nella separazione, nel buio dove si è pianto e ha stridore di denti. L'Azaro invece ha un nome, è nella gloria, è nel cielo, è nella beatitudine, perché ha avuto fede, perché ha avuto speranza, perché non si è lasciato contaminare dal male, dall'odio, dal rancore, dal rimprovero, dal giudizio, è rimasto fermo nella fede della rivelazione che le scritture danno. Ed è questo l'ultimo ammonimento di Gesù ai farisei e a noi. Avete la scrittura, la rivelazione di Dio, la legge, i profeti, Mosè e i profeti, per dirle in altro modo, che sono un codice di comportamento generale per tutti e i profeti quella voce particolare che Dio manda in certe situazioni per correggere la direzione di singoli o dell'intero popolo di Dio o del mondo intero quando questo va verso la perdizione. Proprio su questo ricordo sempre questa ammunizione di Fatima quando la Vergine mostra i tre pastorelli in inferno, visione orribile per tre bambini, ma devono essere messaggeri, profeti per l'umanità intera attraverso la chiesa. E la Madonna fa vedere come l'inferno è aperto e molte anime finiscono dentro, come fiocchi di neve in una nevicata. numerose finiscono là senza speranza e dice la Vergine, i tre pastorelli, questo accade perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per queste anime, perché si convertono quando c'è ancora tempo. Ancora una volta il cielo, per mezzo di questo intervento profetico, avverte della realtà, della possibilità della dannazione eterna e in qualche modo, contundice qualche teologo che vorrebbe che l'inferno fosse vuoto, ma la Madonna non dice questo e non è per odio che viene detto questo verso i peccatori, ma c'è tristezza nelle parole della Madonna e di Dio anche attraverso la parabola di Gesù, c'è tristezza per chi si perde, c'è gioia per chi invece viene recuperato, la pecora perduta. Noi dunque siamo chiamati con una vocazione estrema in questi giorni, in questo tempo che viviamo, a implorare, sacrificarci perché il maggior numero possibile di anime trovino il modo, per grazia di Dio, di convertirsi e di avere l'occasione di non finire là per sempre. Il messaggio della Madonna di Fatima si associa perfettamente con quello successivo della misericordia dato attraverso Santa Faustina a Kowalska, misericordia che è implorare pietà e perdono per il mondo intero. È falso quella misericordia che dice Dio perdona, va tutto bene, rimanete così. C'è un falso discorso di misericordia, un falso messaggio fuorviante. La misericordia è data attraverso la conversione ed è questa conversione ottenuta dalla carità dei fratelli, che non è come Enrico e Pulone che chiedono dopo la morte di andare dai cinque fratelli perché non facciano lo stesso errore, ma qui sulla terra ascoltando quello che è la rivelazione di Dio, la scrittura, e applicandola. E a noi è dato il potere di intercessione per queste anime e anche il dovere. Sarebbe un peccato di omissione grave non farlo. Uniamo dunque i nostri piccoli e grandi dolori, le nostre sofferenze, la nostra preghiera fervente perché il dolore del cielo venga placanto e trovi il modo di distribuire le sue grazie, di conversione attraverso quello che è la supplica dei fratelli, che non odiano e non vogliono mandare all'inferno nessuno, ma vogliono salvare e pregano non dopo ma ora qui sulla terra perché è questo il tempo che ci è concesso per pregare, soffrire, amare nella carità materiale e nella carità spirituale per chi ha bisogno di entrare nel numero dei redenti. Dio vi benedica.